Stavo un attimo rifacendo questa sezione perché motivi E... Charlie, la banconota lì, prendila Gli sei proprio addosso Sono stato troppo veloce, il gioco non è riuscito a gestirmi Augustus Group Sono in paradiso Ci credo Voglio una stanza della cioccolata Anzi due L'ultimo che arriva alla sponda è un nuovo marcio Ogni goccia di quel fiume è cioccolata fusa della massima qualità La cascata è estremamente importante Nessun'altra fabbrica al mondo miscela la cioccolata con una cascata Meno male C'è che costi Se questo si precipitò averne il contenuto Solo un sorso, anzi due Ma nemmeno quello bastava ad Augustus Ti prego ragazzo, la mia cioccolata non può essere toccata da mani umani Sporgendosi per ingozzarsi di cioccolata Che animazione Blu È troppo stretto Direi Non granché come nuotatore Qualcuno dovrebbe fare qualcosa Eh, chissà chi è Ho molte cose da vedere e pochissimo tempo Ma non può lasciarlo lì Prima o poi uscirà Sai, la pressione arriverà fino a lui Oppure gli stacchere gli occhi e tutto quello che c'è dentro Se lo scopo sia stato liberato rapidamente Sarebbe stato possibile pulire il fiume E riprendere la produzione più in fretta E già che gli altri bambini non mostravano alcuna intenzione di aiutare Augustus Wonka affidò il compito a Charlie Ma vai, fai tu E raggiungi il gruppo appena puoi Non di meno Riuscirò a farti qualche visitina Di tanto Charlie accettò di rimanere Ogni tanto vengo a controllare Ma quanto al sistema per liberare Augustus Gloop dal tubo Charlie stava per scoprire che gli serviva più aiuto del previsto Ma va Magari un tecnico Che ne sa un bambino Che va ancora forse all'elementare Forse alle medie Di come cacchio sbloccare un tubo Sai neanche cos'è la fisica Il mio è la ghicchia un po' eh E mi faranno togliere quel ragazzino ingorto dalla mia cioccolata Presto, su Vai, 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 fai, fai Ma è arale Che corre con le braccine aperte così Ma perché? Gli Umpa Loompa sono i migliori per lavorare i chicchi di cacao Ma sono quasi impossibili da rintracciare A proposito Ti servirà l'aiuto di un paio di Umpa Loompa Perciò cerca di trovarli nel prato D'accordo, grande capo Allora, questo è il nostro hub Queste sono le caramelle Con R1 Ci fa vedere di nuovo l'hub Meglio fare come dice il signor Wonka, Charlie Vedi se riesci a trovare un paio di Umpa Loompa Ma perché l'hanno fatto uguale al nonno degli scacchi a lui? Ma che bella la musichetta Dopo vi dico una curiosità sul primo film di Willy Wonka Anzi, qualcuna di più Guarda il modello però, se non è meglio di quello dei disegni L'Umpa ti aiuteranno a togliere quel ragazzino Guarda lui sembra più vero nel gioco Su, su, vai, vai Tu che sei povero Nel gioco Augusto Sonic Gotta go fast Gotta go fast Salve Sono L'Umpa Loompa Vabbè guarda Allora, due curiosità veloci sul primo film Nel primo film La cascata di cioccolato Non era ovviamente cioccolato Era acqua sporca che puzzava E c'era un odore davvero terribile E dicevano gli attori che era difficilissimo stare in quella zona Quando Willy Wonka mangia la tazzina a forma di fiorellino Dove beve prima del tempo se la magna Quella era plastica L'hanno costretto a mangiarla E poi ovviamente l'ha dovuta sputare E terza curiosità Nella scena in cui rimane solo Charlie e... Il bambino dei videogiochi Non mi ricordo il nome Mike TV C'è la scena dove loro vanno sul trabicolo Dove gli spara addosso tutta la schiuma, no? Ecco, quella schiuma era talmente tossica Che alcuni degli attori sono finiti in ospedale Pensavate che il primo Willy Wonka fosse tranquillo? Ricredetevi Allora, Umpa Loompa 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 Io posso tirare palle? No, non posso tirare palle Allora, con R1 scegliamo quale dolcetto utilizzare Con L1 mi fa vedere le statistiche Cosa abbiamo qui? Uno zuccherino? Ok Una buona caramelle inizia da buoni ingredienti Hai trovato qualcuno per me? Sì, ho trovato dello zucchero Il conto degli ingredienti per il caramelle si trova nell'angolo in basso a destra Grazie Io in ogni caso proseguo Cos'è il suo allarme? Un Umpa Loompa Oh, non temere Sono amichevoli Fatti seguire Tranne quando hanno un coltello in mani Inizio a tagliare i tendini nella gente Allora, lavora Segui Aspetta informazioni Ok Mi segui con questo Di qua Venite Lavora ovviamente Dobbiamo dargli l'indicazione giusta Vieni Umpi Cosa possiamo fargli fare? Non lo so Vabbè, io intanto vado a prendere gli altri Umpa Loompa Poi dopo vediamo Ciao Per di qua Ok, ci sono sei No, cinque Umpa Loompa Se il piccolo ciccione non riesce a liberarsi da solo Non ci resta altra scelta Dovremmo spingerlo fuori Orsu Ai Mantici Ok A parte che sembra la collina dei Teletubbies così Ok Mi servivano quindi giusto giusto due Umpa Loompa, vero? Ai Mantici Charlie Se avessi bisogno di aiuto Non esitare a chiedere al tuo vecchio nonno Joe È passato un po' di tempo Ma qualcosa mi ricordo ancora di questo posto Immagino nonno Immagino Questo è cioccolato? No Cioè sì però posso calpestarlo Ma io ho energia Cioè Il viola e l'arancione Non sono la mia energia immagino Non mi ricordo nulla Cioè me lo ricordo vagamente Come ho detto di questo gioco Mi ricordo giusto giusto la parte finale Il resto è Di qua Relativamente nuovo Vediamo Ci arrivo? Sì che ci arrivo Posso già entrare? Sì ma no Di qua c'è qualcosa? No Perfetto Non so se era Per di qua Scusami Ah ok Non mi seguiva Io intanto Dicevo Proseguiamo tutta questa zona Lì c'è il tunnel di luce Che ti porta alla morte Però a livello tecnico Non è fatto male Seguimi Non è fatto male Anzi C'è anche graficamente Ehm A parte un po' troppo luminoso A parte quello Però è bello Di qua Dai Per di qua Bravo Dunque 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 Allora lì ho visto uno zuccherino Io Prima di proseguire ovviamente Per tutte le zone Prima Andiamo a prendere tutti gli oggetti Che sono disponibili In tutte le zone Allora Credo che la torre dove siamo andati prima Sarà accessibile dopo Ma perché continua A farmi vedere tutte le cose Forse se stiamo fermi Mi fa Ho preso un altro zuccherino E non me ne sono accorto Forse se stiamo fermi Mi fa vedere Tutte le cose O non lo so La cosa fastidiosa È che mi fa vedere Tutto il coso lì De Yumpa Loompa Finché ce li abbiamo Ma non è che mi interessi Cioè Lo so cosa devo fare Forza Ce le a tutti Sì Mi sembravano di meno Perché altro Si clippano l'uno con l'altro Si clippano Si entrano uno dentro l'altro Qui c'è qualcosa Non mi sembra No Però Da quel lato di qua Sì Dunque Credo che abbiamo preso tutto Aiuto Augustus Con Yumpa Loompa Ma Ah eccolo lì Ciao Augustus Vabbè guarda Va bene Proseguiamo noi dai Forse dovevo entrare dentro la porta col triangolo Chi lo sa Qui c'è qualcosa per noi Si una porta D'accordo Gli Yumpa Loompa dovrebbero riuscire a espellerlo dal tubo Sono certo che è perfettamente sicuro Anche se non lo sapremo per certo Finché Ovviamente Forza Andate a lavorare Si può fare Mi urta tantissimo che abbiamo sto box nero Ogni cazzo incappare Magnifico Ora la mia cioccolata non avrà più gusto di glup Ma hai l'aria esausta Prova della Wonka Mina È molto energetica Ti rimetterai in sesto Della cosa che chino Si trova sugli alberi Perciò avrei bisogno di questi Con fette senza confini Puoi succhiarli per tutto l'anno Senza che rimpiccioliscano mai E se li lanci Producono un bel frastuono Ho già accennato al loro sapore straordinario Va bene Perché Perché signor Wonka Io dovrei Succhiare una palla per tutto il tempo Anzi Fermo un attimo Visto che Non so se Di qua Venite ancora Forza Bello Per di qua Ok sì Eh sì Tanto non penso mi serva più Che Che lui stia lì Giusto Io Le sfere sono infinite Giusto Seleziona Ok È una Wonka Mina Aspetta No mi sbaglio È una curamella Altrettanto squisita Avanti su Assaggiala Avanti su Succhiala Ok aspetta Ma che bello C'è la fisica È Wonka Mina Una sprizza energia Il che la rende difficile Da catturare Molto tonificante Se sei giù di forza Puoi usare un confetto Per stordirla O fartene prendere qualcuna Dai miei Yumpa Loompa Ok Ci pensate voi Ma riparare Ma riparare che cosa Ehi Ma io posso mirarle le cose Si può fare Cos'è Ah grazie Ma deve Andate a inseguirla Mi hai presa una Non sono magnifiche Un ragazzo che cresce Ha bisogno di parecchia Wonka Mina Per restare in salute Certo Detto ciò Dove sono i miei Yumpa Loompa Più che altro Scusami un attimo Yumpa Loompa Prendono Anche gli oggetti Ma io non posso mirare Davvero È un po' scomodo Si può riparare Ok Per riparare Lui intende Vammi a prendere l'oggetto Schiavo Grazie Io Prima di Fare qualsiasi cosa Ma ho tre Umpa Loompa Gli altri tre Dove sono? Ah se tengo premuto Mi mira Ecco dov'era Il barbatrucco Presa Bravo piccolo Umpa Grazie La cosa divertente È che se non le inseguiamo La vitamina Lei si ferma E L'Umpa Loompa La va a prendere Oh là Questa Mi ha ricaricato La barra Arancione Ah ecco dove eravate Gli voi Me ne manca comunque uno E tra l'altro Avevo visto Uno zuccherino In una zona Ah eccolo lì È talmente piccolo Che non si vede Ed è tutto talmente Illuminato Che faccio fatica A guardare le cose Dunque Che dobbiamo fare? Possiamo proseguire? Pensi che gli Umpa Loompa Riuscirebbero a prendere Della Wonka Mina Charlie Sono certo che te la darebbero Se ci riuscissero Ma quante ne devo prendere Scusami Grazie signor Umpa Loompa Bel lavoro Ma temo che Augustus Non sia ancora uscito Dalla Ma va Davvero Sta ingorgando la stanza Della pianta di fagioli gommosi Deve essere bloccato Anzi sbloccato Dobbiamo terminarlo Ah ogni zona C'è il numero Perfetto Non avevo visto Avevo visto 20 io E invece 20 sono le altre D'accordo Proseguiamo allora Sì con cosa ne hai aperta Col pensiero Ok questa sezione È un filo Me la ricordo Come fa un ragazzino A creare tanti problemi Da piccolo io non ho mai creato problemi Ho aspettato di diventare adulto Per farlo Quanta cosa sta facendo La mia pianta di fagioli gommosi Sta passendo Sai che effettivamente Non ha detto una cazzata Cioè è vero Fino da bambino Wonka comunque è stato Bravo Ehi ciao Sei verde tu Scusami Ok tu cosa fai Ingegnere Vieni Non tutti gli Umpa Loompa Sono uguali sai I miei editori per esempio Sono perfetti per raccogliere I dolciumi persino Dai rami più alti D'accordo Grazie Dai però Devi essergli molto vicino Per prenderli Allora Chiedere aiuto a nonno Grazie lo so nonno Basta Che palle nonno Forza Si può riparare Che palle che dice Si può riparare Quando in realtà Non devi riparare nulla Eccellente Un fagiolo gommoso Sono deliziosi Anche non utili Potrebbero persino Aiutarti a tenere fuori Quel ciccione Dalle mie tubature Dio mio Ma Signor Wonka Ma che cattiveria Perciò sai È un fagiolo gommoso Da un singolo fagiolo Può spuntare Un'intera pianta All'inizio Sono molto appiccicose Si attorcigliano Alle cose vicine Come palline di rampicanti E in più rotolano Che è una meraviglia Ok Grazie Quindi Le abbiamo prese Premi cerchi Per lanciare la trappola Premi triangle Per cogliere la palla Arrampicanti Allora aspetta Si può riparare Ma Me ne prendi altre Sono numerate Va beh Io Ah Aspetta I rami Tra l'altro Hanno anche Prendi Le palline Si può riparare Vediamo se posso Continuare Si può riparare Dove è andato? Ah è andato a lavorare All'altro macchinario Ma scusami Ma io praticamente Posso stare sulla stessa pianta E farlo all'infinito Scusami eh Robottino Ma dai Un generatore Produce il Robo Wonka Ma solo se servono Agli Umpa Lumpa E mai più del necessario A meno che Non gliene servano di più Ok Per di qua Allora Per di qua Tu vieni con me Perfetto Bravo Povera palla Allora Che ci facciamo Con questa Ah Perfetto Ho capito Dio mio Ferma 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 Charlie Eh lo so Lo so Scusami È finita la palla Là dentro Come faccio Ah No Non lo so Scusami Charlie Prendi sta palla Ah Se schiaccio triangolo Lui può Poi la lancia Vai a lavorare Prendi la palla Adesso Aspira Perfetto Dobbiamo bloccare Ovviamente Il tubo Che cazzo Stai ferma Tu Allora Dicevamo No Charlie Allora Capiamoci Un attimo Vai a lavorare Si può riparare Dammi il fagiolo Mettiamo La trappola Qui Robo Wonka Ok Ah ma Non mi attaccano Neanche Dai Robottino Bravo Dunque Adesso Si posso Tappare le palle Arrampicanti E una Andata Ma Me ne escono Altri Certo Che me ne escono Altri Dobbiamo far De appassire La pianta Ora Robo Robottino Dai Preso Fa molto Fa molto ridere Come si rimpicciolisce Per finire Là dentro Comunque Lanciamola Da quella parte No No Prendi la palla Lancia la palla No Di quanto Vai Oh Finalmente Ne manca Ne manca Solo una Robo No Dai Maledè Dai Non puoi sfuggire Al tuo destino Devi entrare dentro La pianta di fagioli Oh è finalmente Andata Bastardo Non scappare Fermo Fermo lì E Vai Palla Dai Dai No E Che Non così Troppo Dicevo Vai Dai Maledizione Ecco fatto Andata Ecco fatto Ora la mia pianta di fagioli gommosi Inizia ad avere un aspetto migliore Eh già Non so con che concetto magico Tu possa avere una pianta di fagioli Che vada a cioccolata Ma Ehi Chi sono io per giudicare Ehi Perdi qua Ma tu lavori per sempre ora Ma se io resto qui a farmare le palline Che ne dici gioco Me ne mancano solo tre di quelle verdi A sto punto tanto vale Ti immagini se adesso non me ne da neanche una Ah no Eccole qua Guarda Completato La mini quest delle palline è andata Dai che me ne manca una Che è quella viola Andata Fatto Proseguiamo sulla piantina di fagiolini Che poi Proprio il cioccolato gli entra dentro È magia tutto ciò Il cioccolato questo è Deve essere Qualcosa che Ti sorprenda D'altronde Scusa un attimo Giusto curiosità Ah no Questa non è una pianta di fagioli Credo Allora Lì dobbiamo Riannaffiarla Ora Oh ma guardalo È riapparso Allora aspetta Grazie Voi Ho sbagliato Scusami Tu con me Forza Tu con me Allora Uno qui Proprio lì Ah yumpa loompa possono benissimo andare sulle spine Loro sono magici D'altronde Allora fermi un attimo Fatemi Raccogliere tutto Ecco qui Tu Si può riparare Vai a lavorare E io Lancio le trappole Ecco qua No Fermo Fermo Charlie Charlie Fermalo Bravo Dunque Lancia la palla Questa è facile Perfetto Ne manca un'altra Ah Sti robottini Preso Tu Ah se sono con un oggetto in mano non posso dagli ordini No dai Dai Che palle Letteralmente Vai 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 Ancora un po' Troppo Ok ce l'abbiamo fatta Molto male Mi sa che ce l'hai quasi fatta Eh ma va Tadà Voi Piccoli schiavi Venite con me Anche tu Vieni con me Anche se in realtà mi sa che non mi servono Perché ogni volta che supero Queste zone Mi sa che loro non riescono più a risalire Vero Dunque No Bravo Ecco qua Qui c'è qualcosa Bella la La cosa lì rosa Che ci guardano dallo specchio Mentre noi lavoriamo Eh si mi sa che gli altri Umpa loompa Sono inutili Non puoi Più utilizzarli Una volta che Superi la loro altezza Sono caduto Ok Quindi Possiamo Andare avanti Però Stai attento Va bene Il bunny hop Ma con Un senso logico Vabbè tanto Le palline le abbiamo Dov'è la L'energia Va bene Le abbiamo già prese tutte Non ci servono Io Farei un attimo attenzione Charlie Ma se chiediamo a nonno Che dobbiamo fare Guarda Charlie La pianta di fagioli gommosi Si sta riprendendo Vabbè fanculo nonno Non mi hai detto nulla Che già non sapessi Grazie Tra l'altro Mi ricordo Quella porticina lì Perché Ehm Più avanti Nel giuego Tra l'altro Aspetta Dicevo Tra l'altro Nel giuego C'è modo Poi di tornare In queste zone Una sola volta Però Succederà Una volta sola E se salvi In quella zona Poi Basta Cioè puoi ricaricare Il servataggio Quante volte vuoi Ma sei All'ultimo step Ovvero proprio Il passo Prima di andare Dentro la zona finale Neanche il boss Fai Proprio Zona finale Così Te botto Senza senso Dunque Un palompini Di nuovo Tre palle Dai Prendi Charlie La cioccolata Charlie Ecco bravo Allora Ce ne mancano Dieci Ce ne mancano Dieci Si può fare Tu vai là E Tu vieni con me Con me Allora Dicevo Uno va qui Proprio lì E uno Va Qui Si può fare Vai Al lavoro Dov'è il robottino Ah eccolo Ciao Dai Maledetto Perfetto Prendila Prendila Bravo Cerchiamo di lanciarlo Già In quello difficile Vabbè Bravo Charlie L'hai lanciato Nell'unico punto In cui non serviva Complimenti Di Qua Perfetto Bravo Charlie E uno è andato Robottino Da una di queste due parti Devi passare Perfetto Dov'è? No Dov'è andata la palla? Palla 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 Dov'è andata la palla? Ah eccola Va a cagare Vai Fatto Me ne manca solo uno Preso Per fortuna Sono facili da prendere Quando Quando appena escono Allora Di qua Vai No Pensavo di averla fatta la prima Dai Dai Maledetta Dai Charlie Una mira Oh È andata Spero siano le ultime dieci queste Speriamo Voi Con me Anche se non mi servite No Sai che forse C'è un'altra zona Perché ci sono Altri due Umpa Lumpi Limpalumpa Tanto non mi servite Perché Come ho detto Voi rimanete giù Allora Calmo Meno nove Una è qui Nascosta Calmo Ecco fatto Ah E questa Dove è uscita? Hmm È uno scivolo per caso Quello Non lo so Lo scopriremo probabilmente dopo No Non ci posso salire qua Vero? Ah Gesù Calmo Calmo Charlie Io capisco Che Che Finalmente Hai un po' di zucchero nel corpo Non mangiavi da Da giorni Tutto il resto Però cazzo Vai Almeno 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 A qualche frame di più Per favore Per favore Ah Posso solo muovere A destra e sinistra La telecamera Calmo Allora Con calma Charlie Con Calma Ce n'è sicuramente Almeno Una o due Qua sopra Almeno Una o due Ecco qua Dicevamo Ecco Uno Ecco qua Almeno una Ne mancano tre C'è C'è qualcos'altro Qui Non credo Proprio Ho un vaghissimo Ricordo E probabilmente È errato Ma mi sembra Che io In questo gioco A un certo punto Mi ero buggato Ma potrebbe essere Un ricordo Così Volante Ok Una è qui Una è lì Ve ne manca poi una Dopo di queste due Spero che sia In quella zona Quindi Una Una è qua sopra Dopo la prendiamo Allora Si può fare A lavoro E Si può fare A lavoro Ecco fatto Prendi Vabbè Charlie Dio mio Ti si odia Veramente Ti odio Lancia Sta palla Ok E una è andata Bravo Robottino Perché ti lanci Subito Stupida palla Vai Ecco qua Ti prego Ah Fuck Vai No No Bravo 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 Perfetto Preso Ovviamente La palla si lancia Prendila 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 Charlie Prendi sta palla Maledetto Allora Ipotizzo Che devo lanciarla In questa direzione Eh Vaffanculo Charlie Però Dicevo In questa direzione Vai Lanciala Perfetto Andata Ma cosa fai Le danze della vittoria Si sta riprendendo Ma dobbiamo far presto È probabile Che il blocco Abbia già raggiunto La stanza Dei nonci serpentini Potrebbero esserci Danni gravissimi Immagino Perfetto Trenta Barrette di cioccolato Una Dopo l'altra Ecco qua Credo che tu abbia raccolto Tutti gli ingredienti In questa stanza Charlie Tieni Una nuova formula Di buon cammino Su cui ho lavorato Troppo potente Per gli umpa loompa Ma per te dovrebbe essere perfetta La super salute E la madonna Scusa un attimo Io posso rivedere i livelli No posso riavviarlo Perfetto E allora Avanziamo Ah Un pulsante Che fortuna Ma dove vai A cosa serve Te lo direi Ma ti rovinerei la sorpresa Prendi questo pulsante Al grande ascensore Di cristallo Per il tuo ottimo lavoro